Un fine settimana per appassionati e collezionisti con tanti appuntamenti ad Arezzo Fiere. Nei padiglioni di via Spallanzani è tornata la fiera del disco e del fumetto con 100 espositori da tutta Italia. Il fumetto ad Arezzo vanta una storia antica a retini più famosi disegnatori di case editrici blasonate come Labonelli di Tex e Zagor. Tra gli ospiti anche Fabio Civitelli che ha esposto le tavole dei suoi ultimi lavori ed incontrato il pubblico. In Toscana c'è un'altissima densità di disegnatori di fumetti, non so se per ragioni di tradizioni storiche o per cosa, però devo dire ne sono particolarmente fiero. Basti pensare che una piccola città alla fine come Arezzo ha ben tre disegnatori di Tex, cioè che è una percentuale altissima, a momenti neanche a Milano ne hanno altrettanti. Per cui tutti gli anni, anzi adesso due volte all'anno facciamo un incontro durante Arezzo Comics e presentiamo un po' quello che stiamo facendo perché il nostro è un lavoro che va lungo. In concomitanza con il salone del disco e del fumetto all'Arezzo Fiere Congressi è tornato anche Passioni in Fiera, evento dedicato principalmente alla natura, agricoltura, outdoor e mondo degli animali. Quest'anno infine con l'aggiunta degli stand di Nirvana. Abbiamo avuto un buon riscontro di pubblico, avevamo 150 espositori, quindi insomma una fiera abbastanza completa con vari settori che risultano di interesse a tutti i visitatori, dalle famiglie con i bambini fino a chi è interessato al benessere, al giardinaggio, all'artigianato, alle curiosità.